Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincavo e quest'oggi vedremo una soluzione definitiva per aprire più madri di Excel. Vediamo intanto che cosa sono le madri e poi vediamo la soluzione e facciamo anche attenzione a una cosa molto importante in fase di lavoro. Allora, se io apro l'Excel, vedete che praticamente apro e ho creato un foglio di lavoro, quindi il mio file di lavoro. Se andiamo qua giù ad esempio, facciamo clic destro, facciamo gestione attività, vediamo che si è aperto un processo e sotto c'è un file. Se adesso io ripeto l'operazione per aprire un secondo file, che cosa succede? Apro il secondo file e vedo che sotto lo stesso identico processo compare anche il secondo file. Quindi questo è un contenitore, una madre di Excel, che mi contiene tutti i file che io vado ad aprire. Se ne apro un terzo comparirà sempre qua sotto e così via, sempre sotto un unico processo. Cosa succede se il cartel 2 va in crash per qualche motivo? Potenzialmente avete un forte rischio di perdere tutti i file di Excel che sono aperti sotto la specifica madre. Perché se andate a terminare il processo, si termina tutto. Quindi distinguere le madri non solo vi permette di salvaguardare il lavoro che se va in crash un file, l'altro comunque continua a funzionare. Ma potete anche andare a fare operazioni di parallelismo. Magari lanciate, aprite un file, premette un bottone per fare l'aggiornamento di quel file. E mentre la macro gira, avendo altri file aperti su altre madri, voi potete comunque continuare a lavorare in modo sereno. Uno svantaggio di andare ad utilizzare i file su più madri è che, ad esempio, se io vado dal cartel 2, quindi da questo file, e vado a prendermi, ad esempio, voglio fare un link da questo file, al contenuto che ho sulla cella A1 del cartel 1. Quindi se adesso io vado su A1 e comincio a scrivere delle cose, poi quando vengo di qua, vedete, ho la formula che punta a questo foglio, a questo file, a questo foglio, a questa cella. Se io poi chiudo il cartel 1 e lo salvo, ad esempio, lo metto, non lo so, sul desktop, ad esempio, giusto per metterlo su una posizione, chiudo il cartel 1, se vado a vedere che cosa mi mette la formula, mi scrive uguale, apici, mi scrive il percorso di dove si trova il file, tra le quadre mi mette il nome del file, il foglio è A1. Quindi lui però mi ha fatto il link, tant'è che se vado su dati e vado, ad esempio, su questo bottoncino qua, modifica collegamenti, io trovo il collegamento a dove è posizionato il mio link. Quindi se ho i file sulla stessa madre riesco a fare queste operazioni in modo molto semplice, senza dovermi scrivere questa formula. Adesso vediamo come aprire più madri e poi vediamo cosa succede se proviamo a fare la stessa operazione che abbiamo fatto ora. Allora, per aprire più madri di Excel, senza fare cose strane come l'abbiamo vista nell'ultimo video, che cosa facciamo? Andiamo a cercarci Excel, quindi andiamo a cercare Excel e qui facciamo un bel tasto destro e facciamo un apri percorso file. Così arriveremo a questa schermata o arriviamo qui che vediamo che praticamente l'iconcina ha una freccia, quindi mi dice che è un collegamento, ok, ma se noi facciamo ancora clic destro e andiamo così manteniamo il collegamento per poter aprire Excel sotto la singola madre, così ne facciamo due, quello standard e quello con più madri. Quindi qui facciamo di nuovo tasto destro, andiamo ancora su proprietà e facciamo ancora praticamente il tasto apri percorso file. Così arriveremo al file fisico, cioè al file reale che è l'eseguibile che lancia e avvia Excel. A questo punto facciamo un bel clic destro e lo trasciniamo nel desktop con il clic destro del mouse, non il sinistro. Quando rilasciamo, lui ci dice copia, sposta, crea collegamento. Noi diciamo crea collegamento qui, così noi praticamente avremo fatto la stessa cosa di questo file qua. Potremmo anche prendere questo file, fare un copia, incolla e metterlo fuori, così abbiamo due collegamenti. L'importante è avere due collegamenti. Quindi il collegamento che io ho messo qui in basso, in centro, è il collegamento che mi apre una singola madre di Excel quando apro i miei file, quindi ne posso aprire anche 10, si crea una singola madre. Adesso come modifichiamo questo collegamento? Quindi Excel più madri, ad esempio, gli ho messo un nome giusto per capire. Excel, multimadre magari. Multimadre. Perfetto, adesso noi facciamo clic destro su questo file qua, facciamo proprietà e qui ci viene praticamente da dove arriva, quindi lui ci dice all'interno delle virgolette, il percorso di dove è posizionato l'eseguibile che lancia Excel. Perché se noi andiamo a lanciare questa cosa qua, ovviamente lui apre Excel. Però è una tecnica molto semplice che si usa anche con lo scudolatore Windows per aprire i file di Excel. Se noi andiamo in fondo, fuori dagli apici e facciamo uno slash verso destra, che è praticamente lo slash sopra al 7, quindi Shift 7, e qui ci mettiamo una X piccolina, lui dice praticamente aprimi una madre, ok? Nello scudolatore poi qui si andrebbe a mettere il percorso del file che noi vogliamo aprire se volessimo scudolare un'attività. Comunque il comando è sempre lo slash e la X. Se noi adesso facciamo applica, ok? Praticamente il collegamento è sempre qua, però lui quando va a eseguire la destinazione, vedete, quando fate doppio clic lui esegue questa destinazione, quindi va a cercarsi questo file, ma poi aggiunge il comando slash X. Vediamo che cosa succede nel gestione delle applicazioni. Sì, io faccio un doppio clic qui, apro il cartel 1, in questo caso, vedete, e qui si è aperta una madre. Vediamo se rifaccio doppio clic, che cosa succede? Cartel 2, ok? E ecco che vedete due madri distinte, non sono più una sola, vedete? Sono due madri distinte, ok? E quindi abbiamo appunto separato i processi. Adesso però con questa funzionalità, come vi accennavo prima, abbiamo anche uno svantaggio, ovvero che non posso far comunicare gli Excel tra loro, che è uno svantaggio se dovete andare a compiere delle formule che vanno da qui a qui, vedete che se clicco non funziona, ok? Vedete, ho cambiato proprio il file, lui non lo sente, e quindi dovreste mettervi, andare all'appice, mettere il percorso, il quadre, il file, e così via, per farvi tutta la formula a manina. Quindi se dovete fare questo tipo di attività, meglio aprirlo sulla singola madre. Se dovete avere i processi distinti, anche per essere tranquilli mentre lavorate, che se va in crash un solo file, utilizzate questa iconcina qua. Quindi, come si fa a tenerle tutte e due? Perché dopo se io prendo questo e me lo metto ad esempio qua giù, ecco che sono identiche. Allora io qui potrei dirgli, guarda, fammi un bel tasto destro, proprietà, andiamo qui e potremmo dirgli anche cambia iconcina. Così io vengo qua, magari questo è un simbolo che ha un doppio foglio di lavoro, diamo l'ok, facciamo applica e praticamente dovrebbe cambiare l'iconcina. Adesso qui non l'ha cambiata perché l'ho messa sulla barra delle applicazioni, ma se andiamo qui, prendiamo ad esempio questa, ecco che ha cambiata. Allora qui la rimuoviamo ad esempio e ci tiriamo giù questa, così abbiamo le due iconcine. Perfetto. Poi questa la possiamo anche eliminare. Ecco, quando voglio aprire una singola madre, premo qua. Quando voglio aprirmi un'altra madre distinta, premo ad esempio quell'altro bottone che ho qua e praticamente io ho finito, adesso ovviamente ne ho due di distinte perché una è la stessa madre e l'altra è multiple, ad esempio qui è separato. Dopo se premo di nuovo questo, faccio testo destro qua, Excel, ne faccio uno nuovo ancora. Se andiamo a vedere il Task Manager, cosa vedo? Che quello con la madre singola, ok, me li contiene tutti e due, invece l'altro resta sempre disgiunto. Bene, direi che anche con questa pillola è tutto, spero che sia stato di vostro gradimento. Come sempre lasciate un bel link, un bel like al video, iscrivetevi se non siete iscritti al canale. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao! Ciao! Grazie a tutti.